A breve verrà rilasciata una nuova concessione de maniale nell'area in prossimità della spiaggia della Marina ad Agropoli, a farlo sapere qualche giorno fa il presidente della cooperativa Vivi Cilento, Emanuel Ruocco. Invito il sindaco alla giunta a tutti i consiglieri a prendere una chiara posizione in tal senso, tenendo sempre conto degli obiettivi strategici turistici che dovrebbero rendere questa città la città del Cilento, sottolinea nella sua richiesta Emanuel. Ad intervenire però sulla questione è stato proprio il primo cittadino a Damocoppola. Io posso rispondere degli atti e delle pratiche amministrative di cui l'ente Comune di Agropoli ha conoscenza. Qui si tratterebbe, quindi parliamo in maniera ipotetica, di una richiesta di concessione fatta alla Regione e la Regione sta verificando le condizioni per che questa concessione possa essere andato oppure no, ma non ha interessato il Comune di Agropoli. Quando lo farà o quando avremo la possibilità di intervenire ufficialmente, seppure c'è questa richiesta insomma, il Comune di Agropoli spiegherà le sue ragioni negative verso il rilascio di questa concessione. Riteniamo che in quell'area o abbiamo una spiaggia o abbiamo le barche. Detta in maniera molto chiara, le due cose insieme non ci sembrano possibili, sia per motivi di sicurezza che proprio per motivi di balneabilità, perché nel momento in cui noi consentiamo l'apertura di un lido sulla spiaggetta della Marina o l'utilizzo della spiaggia, peraltro avete saputo nei giorni scorsi che l'ARPAC ha fatto anche delle verifiche dicendo che l'acqua è quell'area e anche di ottima qualità, allora o mettiamo le barche o mettiamo le persone in mare. Quindi riteniamo di sostenere questa tesi che sembra assolutamente normale per noi farla. Naturalmente però dobbiamo essere anche avvisati e quando lo saremo reagiremo in questo modo.